Buongiorno a tutti, sono Raffa Cerezo della CEM in Spagna. Sono venuto a questo evento dei traslocatori in Italia perché la famiglia CEM è molto importante qui in Italia e io vengo qui in questo evento per imparare, per guardare tutto lo che fa il mio socio Loris Manocchia, la CEM in Italia e sono molto contento di guardare a tutti i traslocatori, imparare il suo consiglio e vedere il mio socio Sonsini che sono venditore di Sonsini in Spagna e per me è una grande opportunità di seguire aumentando le vendite in Spagna grazie a CEM Group e a tutti i traslocatori dell'Italia. Grazie!